15 gennaio 1993. I carabinieri del Ross arrestano a Palermo, nei pressi del motel Agip di via della regione siciliana, il boss dei Bosto Tori Ina, dopo 25 anni di latitanza. A dare il segnale agli uomini del comandante ultimo è Balduccio Di Maggio, nascosto in un furgone fuori dalla casa di Riina. Il pentito è infatti fra i pochi, dopo anni di latitanza, in grado di riconoscerlo. L'innafferrabile, il capo dei capi della mafia siciliana, Salvatore Riina. Un nome totò una data, 15 gennaio...